Noi nasciamo come una campagna di diritto alla libertà di informazione, perché dopo la circolare Maroni, insieme alla Federazione Nazionale della Stampa, all'ordine dei giornalisti, e devo dire anche a onor del vero ad alcuni deputati, si è detto che questa è una vera censura di stampa, è violazione dell'articolo 21, perché non si vuole far accedere i giornalisti in questi CIE? Per cui abbiamo fatto una prima mobilitazione nazionale il 25 luglio del 2011, nel novembre del 2011 cambia l'esecutivo, arriva l'esecutivo Monti, dopo tutta una serie di denunce, conferenze di stampa, tutto quanto il neoministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, nel dicembre del 2011 abroga la circolare Maroni. Bene, ci siamo detti, cominciamo a invadere i CIE di richieste da parte dei giornalisti per entrare. Che cosa viene risposto a questi giornalisti? Viene risposto che ci sono dei lavori, questo è di sicurezza, per cui è evidente che ancora è molto discrezionale l'accesso dei giornalisti ai CIE, per cui abbiamo fatto una seconda mobilitazione che è durata una settimana ad aprile e siamo andati avanti con le visite grazie anche alla presenza e alla partecipazione di alcuni onorevoli deputati. Importante aver fatto rete, importante essere riusciti a scuotere un po' l'opinione pubblica, devo dire che noi da Roma, io mi sento veramente molto di servizio, perché unire, dare voce a quello che voi fate quotidianamente e poter coinvolgere chi si deve occupare di modificare delle leggi è fondamentale. Dalla richiesta della libertà di accesso e di informazione siamo passati invece nella seconda fase, che è una fase evidentemente politica, perché noi stiamo andando a chiedere la revisione delle normative sulla detenzione amministrativa e la chiusura dei CIE. Noi ci siamo uniti anche a una rete di associazioni, una campagna a livello europeo che si chiama Open Access Now, abbiamo già fatto un incontro a Bruxelles e quello che stiamo cercando di fare è chiaro che un'iniziativa solo italiana in questo momento forse sarebbe un po' debole, riuscire a farlo a livello europeo rafforza. La negazione dei diritti umani che avviene all'interno dei CIE non è solo di competenza del Ministro dell'Interno, ma è di competenza a parte della cittadinanza tutta, ma degli enti locali, quindi dei sindaci, dei presidenti di provincia e dei presidenti di regione. Per cui noi stiamo coinvolgendo anche gli enti locali. Per cui abbiamo fatto questa prima visita a ottobre nel CIE di Gradisca, abbastanza sconcertante. Devo dire che io ho delle immagini, fra l'altro, dove un medico dell'ASL, io l'ho definito fantomatico perché io non ci porterei neanche il gatto a curarlo da questo medico, insomma ci diceva che appunto grazie all'esistenza di croce rossine, chi ha dei problemi seri può essere seguito all'interno di un CIE. ci ha raccontato come vengono somministrati, perché forse non abbiamo parlato a sufficienza, ma gli stranieri che sono dentro in un CIE sopravvivono spesso grazie a una dose quotidiana di psicofarmaci, perché rimanere all'interno per mesi senza sapere che fine fare, lo psicofarmaco aiuta, aiuta a non impazzire, aiuta a mantenere la rabbia e a contenere la rabbia. Per cui ci hanno raccontato anche come vengono somministrati i psicofarmaci, anche quello deve essere, ecco, secondo me si avvicina appunto al reato di tortura. Noi avevamo intenzione di chiedere un incontro al ministro degli interni, che è dimissionario, per cui questo esecutivo oramai farà molto poco. Noi ci aspettiamo, la mossa sarà quella di chiedere ai referenti dei partiti che si apprestano, come dire, a condurre nuovi esecutivi a prendersi un impegno sui CIE e sulla detenzione amministrativa. Ci auguriamo che verrà fuori un governo di centrosinistra che si deve assumere delle responsabilità. Grazie.